Ciao ragazzi, dopo una settimana bella piena di notizie siamo qui per parlarne un po' di tutto quello che è successo nell'ultima settimana a partire da lunedì e non sono riuscito in questi giorni a parlare della partita contro la Tristina e comunque degli esonieri degli arrivi che ci sono stati ne parliamo oggi con calma direi due parole innanzitutto sulla partita di domenica proprio disastrosa su tutti i punti di vista e prendere un gol dopo 15 secondi è grave e prenderlo anche al 46esimo quando mancavano 10 secondi alla fine del primo tempo è ancora più grave perché lo hai preso veramente nei due momenti peggiori un po' delle partite prenderlo subito praticamente parti in svantaggi poi lo prendi il raddoppio poco prima di andare nell'intervallo quindi vai all'intervallo con uno spirito completamente diverso è stata una partita dove il Novarà non ha creato proprio proprio nulla non mi ricordo grandi occasioni e si poteva fare molto di più perché la Tristina non era sicuramente in un buon momento e quindi poteva bisognava fare molto di più è ovviamente uno pensa alla Tristina pensa al grande passato glorioso però stiamo parlando con tutto rispetto ovviamente di una squadra che è nelle ultime posizioni e che aveva perso un po' con tutti se non sbaglio in una delle ultime partite aveva perso contro l'Arsignano non dico che bisognava per forza vincere ma sicuramente si poteva portare a un punto o proprio al minimo vedere una prestazione positiva perché i dati fuori casa parlano di un Novarà che tra le ultime cinque in trasferta per quanto riguarda i punti fatti tre vittorie di cui due vittorie abbiamo fatte a settembre una del derby poi è stata la vittoria di Padua e poi abbiamo sempre perso non segniamo fuori casa da Juventus andare in tre Novarà che era praticamente inizio novembre metà novembre massimo quindi fuori casa veramente c'è da invertire la rotta se si vuole comunque cercare di salvare i playoff per quanto riguarda le notizie che sono arrivate in questi giorni sicuramente c'è stato un cambio sia in panchina sia dietro la cattedra a livello dirigenziale con Ferranti che ha voluto dare una scossa importante e una scossa che a parer mio rivela anche gli errori che il presidente ha commesso perché sicuramente ringrazierò all'infinito Ferranti per averci salvato nell'estate 2021 per aver ricreato il Novarà per aver allestito un'ottima squadra l'anno scorso e comunque non si può negare che Ferranti non abbia speso anche nell'estate 2022 per allestire una rosa competitiva per la Serie C quindi sicuramente un presidente che si è mosso molto e comunque mette sempre la faccia ho sentito molto le sue parole nella conferenza, nella presentazione di Marchionni ha affermato i suoi errori, ha affermato di non aver visto, aver sbagliato nel giudicare Marchionni in estate aver visto cose che solo dopo l'esonero ha visto e anche perché continuo a pensare che l'esonero di Marchionni in estate sia stato troppo frettoloso, poi non so cosa c'è stato dietro, sicuramente ci sarà dato qualche battibecco qualche discussione, qualcosa su cui Marchionni e Ferranti non si trovavano d'accordo perché credo che andare a desonerare un allenatore una settimana prima di inizio del campionato solo perché contro il Pondonanza aveva vinto solo 1-2-0 e non 5-0 è veramente una roba abbastanza scandalosa quindi credo che sicuramente ci siano stati dei punti in cui si sono trovati in disaccordo che hanno portato all'esonero Ferranti ha ammesso comunque di aver sbagliato perché Marchionni ci ha portato in Serie C e meritava oltretutto di guidare la squadra in questo campionato la squadra che aveva costruito lui insieme a Zebi, i giocatori le aveva voluto lui quando era tocevoli è arrivato giusto Tavernelli e pochi Bertoncini, veramente pochi altri però il gruppo forte della squadra è stato voluto da Marchionni e quindi secondo me ha sbagliato a esonerarlo, è tornato è un allenatore che io stimo, un allenatore che magari non fa esprimere la sua squadra un grandissimo calcio però a me piacciono quegli allenatori che ci mettono tanta grinta che li vedi che urlano, li vedi che non hanno paura ad alzare la voce a tirare fuori gli attributi e credo che possa dare a livello caratteriale una svolta a questa squadra perché manca proprio il carattere in particolare in trasferta dove si vede proprio una squadra molle, una squadra in preda alle difficoltà che non mostra reazioni anche dopo un gol e quindi sono favorevole a un ritorno di Marchionni e comunque chi poteva tornare solo lui perché sta pagando Cevoli, sta pagando Marchionni non è che poteva permettersi di chiamare qualcun altro però io credo che Marchionni darà una svolta e ovviamente lo spero e c'è stata una svolta anche dietro la cattedra perché Zebi ha abbandonato letto di molti che hanno dato tante colpe a Zebi vi dirò la mia secondo me qualche colpa ce l'ha però non così tanto come molti dicono nel senso che Zebi ha costruito una squadra con Marchionni Marchionni si è andato via una settimana prima dell'inizio del campionato è arrivato Cevoli che si gioca con lo stesso modulo di Marchionni 3-5-2 ma abbiamo visto che fin da subito alcuni giocatori che erano stati evoluti fortemente da Marchionni poi con Cevoli sono stati considerati veramente poco e quindi capisci che quando Zebi un direttore forma una squadra con un allenatore poi l'allenatore cambia e magari i giocatori non rendono e soprattutto perché sono giocatori nuovi a chi si dà la colpa al direttore che sicuramente ha sbagliato qualche acquisto su questo sono totalmente d'accordo Buric è un giocatore che ha deluso molto anche perché è uno dei primi arrivati non è uno che dici ecco l'occasione all'ultima giornata di mercato costa poco prendiamolo come sostituto è uno dei primi che è arrivato a Novarello quindi sicuramente su Buric si puntava abbastanza ce ne sono stati altri giocatori ma in particolare Buric credo su tutti che abbia deluso tra i primi colpi proprio i primi che sono arrivati poi è arrivato Semmoli ha cambiato modulo e allora vedi che i giocatori che ancora con Cevoli giocavano poi hanno perso la titolarità mi viene in mente soprattutto Benaluan Ciancio che era finché c'era Semmoli doveva andarsene via ora forse rimarrà proprio perché non erano adatti e a questo punto a chi si dà la colpa al direttore quindi il mio pensiero è che Zebi ha delle colpe ma non così tante come tanti altri dicono poi ovviamente sono pareri ognuno al proprio quindi le colpe sono un po' di tutti le colpe sono del presidente del direttore sportivo dei giocatori ovviamente colpe di giocatori tantissime nell'aver messo poco carattere in tante partite una cosa che può dare tanto perché davanti abbiamo oltre a Pablo abbiamo due attaccanti che negli ultimi tre anni hanno fatto 60 gol in due abbiamo due che negli ultimi due anni è stato il capo cannoniere del proprio Gironi o Bortolussi e Gallupini non stiamo parlando di due attaccanti che negli ultimi anni hanno fatto 5 gol stiamo parlando di due attaccanti che nelle ultime tre stagioni vanno sempre in doppia cifra in serie C quindi è una squadra che ha un potenziale un grande potenziale che non viene che non viene espresso soprattutto in questa posizione che è il Novara ovvero ottava se non sbaglio quindi questo è il mio pensiero sulla situazione poi si sta muovendo il calcio margato sono arrivati abbiamo visto Ariaudo e il giovane attaccante con la trestina direi rimandati ma ovviamente sono entrati in una partita non semplice brutta notizia che Kelotti si è fermato ecco questa è veramente una brutta notizia perché era il migliore forse uno dei pochi positivi negli ultimi mesi e perdiamo un difensore che si stava veramente prendendo la titolarità con prepotenza e suono di ottime prestazioni è un peccato lo perderemo per circa due mesi e proprio per questo Novara si è mosso subito è arrivato Julian Illanes dal Lavellino un difensore di 1,90 m classe 97 giocava ha giocato nel Lavellino comunque ha collezionato 41 presente quando ha presenza ha giocato anche nel Chievo in Serie B dove Pachinaro possiamo dirlo così e quindi si è mosso credo che comunque con Marchionni tornerà anche Benalouan spero perché è un giocatore importante e secondo me si deve anche un po' riscattare dopo le ultime partite che poi gli hanno fatto perdere il posto da titolare dove forse anche a livello caratteriale aveva sbagliato un miglioro contro il Piacenza aveva reagito in maniera eccessiva le provocazioni di un Cosenza che non aspettava altro quindi è andata spero che possa riprendersi il posto tanto Tavernelli rientra a Cittadella Tavernelli anche lui non bene era partito benissimo con il gol a Renate la doppiata Mantua poi si è perso poche prestazioni positive dopo forse un ruolo che non era non suo in particolare con Semmioli e quindi è stata possiamo dire una delusione perché secondo me è un giocatore che l'anno scorso aveva comunque fatto il suo in B poteva fare molto meglio in serie C quindi Tavernelli se ne va è andato via anche Amobeng Amobeng che secondo me ha trovato poco spazio ne meritava di più sicuramente uno dei protagonisti dello scorso anno in serie D quindi meritava di più ha trovato poco spazio se ne va in serie B di Svizzera e niente adesso guardate guardo adesso perché non mi ricordo c'era già domani o domenica al Novara tra l'altro spero che possa fare un risultato positivo per rianimare un po' una piazza che negli ultimi mesi è stata molto 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 addormentata poca gente allo stadio veramente in ultima partita è complice il tempo complice ai risultati comunque serve dare una carica in più perché settimana prossima c'è il derby io spero che il Novara ci possa arrivare con un risultato positivo con tanta grinta e tanta voglia per fare bene